buona serata ultimo aggiornamento di oggi da firenza smart mauro ciutini in studio ci sono mezzi in lento movimento direzione firenze sulla variante di valico tra il bivio a 1 variante di valico e firenzuola in direzione opposta tra barberino di mugello e aglio c'è un veicolo in avaria passiamo alla firenze pisa livorno il traffico è rallentato la viabilità esterna che non riceve tra scandici e firenze scandici in direzione di firenze ancora sulla strada di grande comunicazione mezzi in lento movimento tra livorno porto e il bivio sgc a 12 genova livorno direzione firenze e per chi viaggia domani in toscana il lamma prevede cielo poco nuvoloso addensamenti sulle zone settentrionali dove invece saranno possibili isolate piogge è tutto grazie a regione toscana città metropolitana comune di firenze buona serata